Benvenuti alla sezione storytelling in collaborazione con l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo. Stiamo raccontando 12 storie tra ieri e oggi di 12 diaristi che sono presenti nell'archivio dove ci sono circa 7.000 diari di persone comuni. Oggi, questa mattina, vi parlerò di un diarista, un giovanissimo diarista, Valerio Daniel Desimoni. Valerio ha scritto queste pagine a 24 anni, mentre attraversava l'Europa e l'Africa per battere il primato mondiale di percorrenza su veicoli quad e per raccogliere dei fondi a favore di due villaggi africani e diffondere il messaggio ambientalista. Lui è nato a Sydney da genitori italiani e Valerio, dopo aver perso il padre in tenera età, aveva circa due anni, ha avuto un'educazione multiculturale, ha concluso i suoi studi di liceo e fin da piccolo aveva una grande passione per il calcio. Dopo i 18 anni, quindi giovanissima età, ha creato a Sydney con alcuni amici un business di eventi e anche una società multimediale che ancora è attiva oggi e ha portato avanti questa attività fino al giugno del 2010, anno in cui è partito con due compagni di viaggio per affrontare appunto questo viaggio intorno al mondo. I suoi interessi principali erano il cinema, la fotografia e la storia romana, però era anche un attivo ambientalista ed era anche un militante di Greenpeace. Il 13 marzo 2011, dopo nove mesi di questo viaggio, Valerio è morto a bordo di un aereo nei cieli dello Zimbabwe, a causa delle ferite riportate in seguito a un incidente stradale nella capitale dello Stato africano del Malawi. e The World Together, questo è il titolo di questo diciamo diario, di questi scritti, è stato ritrovato dopo la sua morte. In realtà non è esattamente un diario, sono degli scritti cose che lui aveva scritto a penna, dei pensieri, riflessioni, le ha scritte per mail, sms, un blog che veniva molto seguito, quindi via web, scriveva molto su internet. e sua madre, dopo la morte, ha raccolto tutto questo materiale con l'aiuto ovviamente di amici, conoscenti, di persone alle quali Valerio scriveva e lei, la mamma, ha detto io dopo aver raccolto questo materiale ho pensato che Valerio ci avesse fatto un grande dono regalandoci questi suoi scritti, queste sue riflessioni, non solo sulla sua vita, ma anche su tutte le persone che incontrava, riguardo alle persone che incontrava, ai viaggi che ha fatto, ai luoghi. Io ora andrò a leggere alcuni di questi scritti, alcuni sono stati presi da mail, altri appunto da sms, da scritti personali con la propria mano, di proprio pugno. Pagine iniziali del diario 3 luglio 2010, Sydney, Australia, ore 13, seduto al sole, siamo così vicini eppure così lontani, abbiamo fatto così tanta strada eppure non siamo neppure partiti, siamo in tre ma viaggiamo come uno solo, siamo giovani, eppure io mi sento vecchio, mi chiamo Valerio De Simoni, ma chi sono io? Io sono un essere umano, ma cosa siamo noi veramente? Io sono coraggioso, ma di cosa ho paura? Io partirò, ma tornerò io? 1 agosto 2010, isola di Mykonos, Grecia Sono partito da Sydney alle 3, il 29, e sono andato da Sydney a Singapore, poi da Istanbul ad Atene, da Atene a Mykonos. Quando ho lasciato Sydney è stata la prima volta che ho dovuto dire addio ad una ragazza e alla mia famiglia per un anno. 20 minuti dopo il decollo sono scappato nella toilette per fare una ripresa per il video diario sui miei sentimenti verso Tel, la mia ragazza. Dopo 3 minuti sono crollato e le emozioni e la confusione mi hanno veramente colpito in pieno. La amo e mi manca già. Fatto il video gliel'ho mandato dall'aeroporto di Singapore con qualche foto di noi due insieme. Dopo i primi due giorni completi con il team mi sono reso conto che questo sarà un anno lungo, un lungo anno di crescita e di apprendimento. 13 agosto 2010, Orid, Macedonia. Stanco, caldo, denutrito, eppure ancora qui. 1.153 chilometri già percorsi per il record mondiale e siamo solo al terzo giorno. La dinamica del gruppo sembra essere uno dei fattori scatenanti dei nostri problemi. I quad, a parte avere una bassa efficienza energetica, girano bene. Ieri abbiamo guidato da Gallipoli fino a Orid, in Macedonia. Ho la sensazione che ci siano sogni e obiettivi diversi per noi tre. Ted sembra una persona molto diversa adesso che siamo in viaggio. Jamie è ancora un viaggiatore, so tutto io, un duro. Almeno questa è la mia sensazione. 23 agosto 2010, Monaco. Tredicesimo giorno, una giornata di riflessione. L'immagine della povertà è diffusa ovunque. A volte la soluzione appare così semplice, eppure così lontana. Attraversare paesi come la Grecia, la Macedonia e l'Albania mi fa capire che non è solo quello genericamente etichettato come terzo mondo ad ospitare gruppi di persone colpite dalla povertà, ma sono anche i paesi dell'Occidente. Ogni giorno ci troviamo ad attraversare una, tre, cinque, dieci città, a parlare con le persone del luogo, della loro cultura, i loro bisogni, le loro speranze, i loro sogni e le loro vite. La povertà, come l'ho intravista, non è solo un calcolo di quanto si possiede, ma anche una povertà emozionale. Ero seduto in un ristorante in Macedonia dopo aver parcheggiato fuori i quad, quando ho notato un gruppo di ragazzini che mi sorridevano attraverso i vetri. Avevano visto i quad ed erano tutti eccitati. Un po' di parole internazionali come «Hello, me, Valerio, what's your name?» e poco dopo io e i ragazzini eravamo a tirare calcio a un pallone molto oltre l'ora in cui avrebbero dovuto essere a letto, a ridere e scherzare per un bel po'. E poi uno dei ragazzi che parlava in inglese stentato ha detto «Signore, possiamo avere il suo autografo, per favore?» Io l'ho guardato non sapendo se diceva sul serio o no. E mi sono reso conto che da così poco alcuni bambini ricavano così tanto. Chris, Jamie e io abbiamo autografato per loro un po' delle nostre cartoline della Quad Squad. E poi il ragazzino mi ha regalato una sciarpa che ha detto era quella della sua squadra di calcio preferita. Significava un sacco per lui darmi la cosa più importante che aveva perché voi ragazzi siete così eccezionali. Io vi voglio ricordare per sempre. Quando abbiamo finito di cenare c'era una folla di 15 ragazzini di strada che volevano tutti starci a guardare mentre mettevamo in moto e ci allontanavamo da lì. E così abbiamo fatto. 23 ottobre 2010, 18-05, alla frontiera fra la Libia e la Tunisia. Desolato, isolato, teso, serio, pensoso, Africa. La sabbia del deserto del Sahara, fine, polverosa, soffice, si appiccica a questo diario come il calore sul mio casco mentre galoppo attraverso questo tratto settentrionale del continente selvaggio. Il sudore bolle e mi si secca salato sul cranio. 27 ottobre 2010, deserto del Sahara, Libia. A un chilometro fuori città, il Sahara si estende direttamente davanti a noi. Sabbia, sabbia, sabbia. Questo dovrebbe chiamarsi il più grande deserto di sabbia. Dopo aver fatto le riprese e il lavoro fotografico, la vera esperienza di guidare fuori pista è cominciata. Avevo appena registrato 14.000 chilometri sul mio contachilometri. E così siamo già a metà del record mondiale dopo due mesi e mezzo. Abbiamo volteggiato, accelerato, urlato, guidato, assaporando ogni momento. Era un bambino, ancora una volta. Alberi di palma, dune di sabbia, rocce, datteri del deserto, il sole, il vento, l'immensa grandezza, i colori soffusi. Questo era il mio vero Sahara. Domenica 23 gennaio 2011, mio padre e io in un sognante safari nel Masai Mara. Mio padre è morto quando io avevo due anni e mezzo. Lui ne aveva 35. Quando ero bambino e già in grado di capire che mio padre non c'era, la mamma mi raccontava una bellissima storia sul come mio padre fosse molto malato e fosse dovuto andare da quella stella lassù in cielo, che era sempre la stella visibile e più brillante. Viaggiando attraverso l'Africa noto semplicemente quanti bambini hanno perso un genitore, se non tutti e due i genitori. La morte è molto naturale qui. La morte è molto ben accetta qui. Nel mondo occidentale la morte è vista come una terribile disgrazia. Quando passo il tempo con la gente del luogo e gli animali, specialmente gli animali, mi ricordo quasi geneticamente che siamo tutti destinati a morire. E il saperlo, il capirlo può richiedere tempo e riflessione. Da quello che mi è stato detto, mio padre ha fatto fatica ad accettare il suo destino. Febbraio 2011, Tanzania, aspettando il mio pesce grigliato al Q-Bar. Babbo, buon compleanno. Hai 56 anni, se non mi sbaglio. Finalmente grande e grosso. Eccomi qua, tuo figlio, il tuo studente. Cosa ti dico? Cosa vuoi sapere? Marco comunque è diventato un grande uomo. Il tuo fratellino è il mio nuovo idolo. Sono fiero di lui e di come si sta vivendo la vita assieme alla sua famiglia. Nonna, quanto gli volevo bene. E ancora gliene voglio. Mamma, la persona più importante della mia vita. Babbo, padre, non mi hai abbandonato. Hai fatto quello che il tuo corpo ti permetteva. E so, con tanto dispiacere, quanta strada volevi e potevi ancora fare. Penso spesso a te, ma qualche volta non abbastanza profondamente. Sono così fiero di te, mamma, e della mia famiglia. Un albero. Ti farò sempre onore, sempre e per sempre. Vorrei semplicemente che fossi vivo e presente nella mia vita. Quanto sarebbe diversa la mia vita. Credo di essere il prodotto della tua assenza. Un'assenza che mi ha fatto crescere più di quanto tu possa immaginare. Anche sicuramente più di quanto possa immaginare anch'io. Il mio coraggio, il mio orgoglio, la mia abilità, la mia forza, il mio obiettivo, la mia determinazione, il mio braccio, il mio pugno, la mia passione, il mio cuore, i miei pensieri e io sono tuoi. Ultima pagina del diario. Mercoledì 9 marzo 2011. Sul traghetto Ilala, sul lago Malawi. Sono le 8 e 45 e il cielo è completamente coperto di nuvole. C'è una pioggia leggera e calmante. Il rumore del motore mi ricorda il suono continuo ma leggero di una 747. Ieri sera ho visto il tramonto più bello della mia vita. Arancio, rosa, rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola. Un'immagine preistorica. Con le acque tranquille del lago, qualche uccellino nella distanza e le montagne del Mozambico come sfondo. Insomma, l'avventura è già a 210 giorni dalla partenza da Istanbul. Quando Massimo, Marco e io ci mangiavamo quei piattoni di spaghi e vongole dal famoso romano non pensavo proprio che sarei stato in mezzo all'Africa scrivendovi questa lettera. È duro questo viaggio, è molto duro a volte. Tra noi tre ragazzi, con le moto, con tutte le nuove culture, lingue, ambienti, confini, regole. Insomma, sarà una gran bella storia alla fine. Alle prossime vongole, vi penso, baci e abbracci. Valerio Grazie 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 Grazie